Buonasera a tutti. Alcune persone ormai sono degli affezionati, quindi ormai ci conosciamo tutti. Buonasera. Io faccio giusto un'introduzione per spiegare questa rubrica, i giovedì di Life for Kids, e poi passo subito la parola a Miriam. Allora, l'obiettivo di questi giovedì è che dopo una serie di webinar che abbiamo organizzato, l'idea era di provare a fare qualcosa di diverso, cioè magari di incontri più brevi come tempo, quindi come se fossero una lezione universitaria, 45 minuti, con domande, interazioni, proprio come se fosse una lezione interattiva tra il relatore, la relatrice e chi partecipa, però farli periodici, quindi tutti i giovedì da qui è la nostra aspettativa di arrivare fino a luglio. Però vediamo, insomma, noi ci proviamo. Tanto di tematiche ne abbiamo veramente tante e quindi, insomma, possiamo veramente sbizzarrirci. Ci stanno arrivando anche tante sollecitazioni, ci stanno arrivando tante informazioni, tante idee per i prossimi incontri. Abbiamo iniziato a mandarvi un programma per aprile, quindi con i tre primi incontri, e poi l'idea è di, nei prossimi giorni, prossime settimane, di mandare il programma di maggio e il programma di giugno. Quindi l'idea è di affrontare un po' la tematica delle orchidee, delle orchidee spontanee e i loro habitat. Quindi l'idea è di parlare dei funghi, perché è ad esempio un argomento che è molto affascinante, anche questa simbiosi che hanno con i funghi, quindi approfondire anche questa tematica. Parlare dell'habitat, parlare di come si fa a proteggerle, esperienze dai custodi, quindi l'idea è proprio di far fare una testimonianza da parte di chi ha le orchidee nel terreno e ci spiega come fa a custodirle. Quindi questa era un po' la nostra idea. Con il primo abbiamo chiesto a Miriam dell'Università di Genova di parlarci un po' di primi passi per riconoscerle. Quindi l'idea è attraverso una carrellata di foto raccontare un po' le orchidee e come fare i primi passi per riconoscerle. Poi vi invitiamo veramente a fare delle domande, a curiosità, a chiedere a Miriam. Siamo in 52-50 persone, quindi o le facciamo via chat oppure se volete via chat chiedete la parola e potete accendere i microfoni, le telecamere e possiamo fare le domande. Quindi adesso io darei la parola a Miriam che ci racconta un po' insomma il mondo delle orchidee. Il primo incontro di apertura lo facciamo con Miriam dell'Università. Prego Miriam. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità. Adesso provo a condividere questo schermo. Era vista, forse schermo. Eccolo qua, perfetto. Ok, va bene? Vedete tutti? Buonasera a tutti, io sono Miriam Bazzicalupo. Allora, cominciamo con i primi passi per riconoscere le orchidee. Possiamo dire che la famiglia delle orchidee è una delle più numerose al mondo. Infatti contende il primato come numero di specie alla famiglia delle asseracee. Ed è una famiglia a distribuzione cosmopolita, con un sbilanciamento deciso verso le zone tropicali. Ma comunque anche nelle nostre zone possiamo osservare un gran numero di specie. Queste sono distribuite in circa 800 generi e si possono osservare in uno svariato numero di ambienti. Possiamo osservarle infatti in zone di torbiere, paludi, ma anche sulle cime delle nostre montagne. Infatti arrivano anche a colonizzare ambienti decisamente rocciosi. Oppure possono essere ritrovate in boschi, pinete, in prati, pascoli, nei nostri ulivetti vicini alle città, in prati che sono gestiti dall'uomo. Ma anche al margine delle strade, come penso che tutti sappiate, ad esempio è notevole in questo momento la fioritura della Barlea Robertsiano, il Montoglossum Robertsiano, che possiamo anche vedere al margine dell'autostrade. In Italia, penso che tutti voi lo saprete, abbiamo numerosissime specie di orchidee spontanee. Sono infatti più di 230 e annoverano anche numerose sottospecie e ibridi. Quindi come cominciamo a riconoscerle? Intanto dobbiamo uscire di casa, armarci di macchina fotografica, un po' di pazienza e dobbiamo anche aguzzare la svista in molti casi. Osserviamo l'aspetto generale della pianta che supponiamo essere un'orchidea, consideriamo l'aspetto di foglie, fiori, consideriamo il contesto in cui osserviamo questa pianta, consideriamo la stagione e anche l'area geografica in cui ci ritroviamo. Una delle prime caratteristiche che ci consente di immaginare che ci troviamo davanti un'orchidea è proprio l'aspetto delle foglie. Infatti le orchidee appartengono alle monocotiledoni e in quanto tali presentano delle nervature parallele sulle foglie. Queste possono essere maculate oppure debolmente maculate e c'è un'eccezione come spesso succede, che è ad esempio il caso del genere Gudiera che ha una foglia reticolata, come non so se vedete il cursore, è questo il caso. Usciamo di casa e se stiamo uscendo d'inverno possiamo osservare delle rosette che ci fanno pensare di essere davanti al genere Ofris. Come possiamo riconoscerle? Questo genere si distingue per le nervature piuttosto marcate e un aspetto biancastro, un verde più chiaro delle foglie. Adesso io vi do un'anticipazione di come apparirà il fiore, però ad esempio facciamo il caso che ci troviamo d'inverno. Una delle caratteristiche del genere Ofris è proprio la stagione in cui cominciano a emettere le foglie. Ci fanno pensare di essere Ofris proprio se ad esempio osserviamo l'emissione delle foglie a partire già da novembre-dicembre. Un genere che ha foglie molto simili al genere Ofris è la neotinea, che però si distingue per l'aspetto molto più robusto delle foglie, anche se il colore è molto simile. E poi se ritorneremo a osservare queste piante nello stesso posto dove sospettavamo che si trovasse una neotinea, possiamo osservare che il fiore in realtà è molto diverso. Infatti nel caso precedente avevamo un fiore che ricordava la forma di un insettino, mentre qua abbiamo un fiore che ricorda la forma di un omino. Poi ad esempio nei nostri olivetti sono molto diffuse le orchidee del genere Serapias. Scusate appunto il cursore, compaiono le finestrelle. Allora, queste piante che appartengono a questo genere si distinguono perché hanno le foglie disposte in modo impilato, dalla forma allungata e da questo colore verde caratteristico. Inoltre, se torneremo sullo stesso posto cercando di confermare che esse potrebbero appartenere al genere Serapias, osserveremo una forma molto caratteristica del fiore. Ma poi di questo ne parleremo dopo. Una forma molto simile delle foglie rispetto al genere Serapias ce l'hanno le orchidee del genere Anacantis, che infatti come vedete hanno delle foglie molto allungate di nuovo, dal colore che ricorda molto l'esempio precedente. E tuttavia queste hanno una disposizione delle foglie molto più, le foglie sono disposte in modo molto più alternato. Se torneremo sul posto vedremo che la forma del fiore è di nuovo molto diversa rispetto al genere Serapias. Supponiamo di trovarci invece davanti delle piante di questo tipo. Sono molto robuste e hanno le foglie molto lucide. Questo aspetto potrebbe farci pensare di trovarci davanti a delle piante appartenenti al genere Mantoglossum, che in effetti come stagione di emissione delle foglie cominciano a tirare fuori la testa, diciamo così, già a partire da ottobre-novembre. Delle maculature molto caratteristiche che ci possono far pensare di essere davanti al genere Dactiloriza sono di questo tipo. Sono delle maculature che si dispongono più verso il lato della foglia, ma anche ovviamente verso il centro. Nel complesso queste foglie in effetti sembrano piuttosto leopardate e le maculature sono particolari in questo genere perché sono molto allungate. All'interno di questo genere comunque vi sono degli esempi di specie che non hanno maculature, come ad esempio quello della Dactiloriza sambucina o la Dactiloriza viridis, che colonizzano ambienti di prato, ma anche zone umide. Poi abbiamo esempi dal genere Orchis, che annovera piante con rosette dalle foglie e dall'aspetto molto robusto, come l'Orchis purpurea e l'Orchis militaris, ma anche specie che hanno delle rosette dalla lamina più stretta, delle rosette maculate come nel caso dell'Orchis provincialis o maculate in modo caratteristico, diciamo più macchiettate nella zona di inserzione della foglia verso lo stelo. Poi se facciamo la nostra passeggiata nei boschi è molto probabile che incontreremo le orchidee del genere Cefalantera, che hanno questa infiorescenza molto riconoscibile e a seconda di come sono disposte o allungate le foglie che possono permettere di distinguere la specie, anche il colore in questo caso, ma poi ci arriveremo. Poi c'è il caso che vi ho riportato prima, che riguarda le orchidee del genere Gudiera, che si possono ritrovare tipicamente in ambiente di pineta su tappeti di muschio e come potete osservare hanno questa reticolatura molto carina che ci consente di riconoscerle anche in assenza dello stelo fiorito, che comunque anche questo è pure molto carino, respirato. Poi ci sono alcuni casi particolari in cui in effetti non sono evidenti le foglie, anche se in minima parte ci sono questi tessuti. Mi sento una serie orchidee che non è... Scusate, sto facendo cicolare troppo la sedia. Però ce ne è anche... Allora, quindi abbiamo... Posso? Abbiamo il caso delle orchidee del genere Limodorum, che escono tipicamente in questa forma dal terreno, diciamo in una stagione che può essere già quella primaverile. E poi il caso, ad esempio, della Neozia, Nidus avis, che sembra non avere le foglie, anche se invece ce le ha anche accennate, e presenta anche in una minima quantità della clorofilla, che però è nascosta da altri pigmenti. Anche se non vedete verde, in qualche modo la clorofilla c'è. E poi ci sono le orchidee del tipo Epipogium afillum, che è davvero difficile vedere e che non direste mai, in effetti, che si tratta di un'orchidea. Tutte queste specie sono orchidee boschive. Veniamo ora alla parte che forse interessa di più per quanto riguarda questa famiglia, che è la parte del fiore, che in effetti ci dà più indicazioni riguardo alla specie che abbiamo davanti, soprattutto per quando ci si approccia, diciamo da neofiti. Come possiamo distinguere una specie da un'altra? Consideriamo innanzitutto quanti fiori ha, come sono, come aspetto questi fiori, e anche l'infiorescenza. Hanno un odore o un profumo? Qual è il loro disegno? Come sono disposti sullo stelo? E se, ad esempio, siamo un po' meno novellini, potremmo anche considerare le caratteristiche delle strutture del polline oppure il suo colore. Come vi dicevo, abbiamo diversi tipi di fiori, infatti nei diversi geni assistiamo a diverse morfologie fiorali. È molto famoso il caso delle ofridi, che sono le orchidee che qui vi vedete riportate, ve le sto indicando. Sono le orchidee che mimano, a livello del loro petalo centrale, che è modificato, si chiama labello, mimano la forma della femmina, dell'oreo insetto impollinatore. Mimano la forma, ma anche il colore, scusate, il colore e anche l'odore. Poi abbiamo le orchidee che ricordano più la forma di un omino, che sono ad esempio raggruppate nei generi orchis, dactiloriza e neotinea, oppure orchidee che ricordano più la forma di una lingua, come quelle che appartengono al genere Serapias. Io vi riporto solo alcuni esempi, però essendoci 230 specie è difficile, diciamo, riportarle tutte. Vi riporto i casi più emblematici e quelle che sono più diffuse sul nostro territorio. E quindi le orchidee del genere Serapias ricordano appunto la forma di una lingua e hanno questo tipico caschetto formato da elementi fiorali saldati. Quindi facendo una carrellata veloce di quello che potremmo trovare nella nostra Italia, potremmo trovare l'office insectifera che si distingue molto bene per il disegno del labello rispetto all'office apifera e così questo discorso vale anche per tutte le altre office. Ci sono in effetti tante sottospecie di office per cui a livello di gruppo forse è più semplice arrivare a restringere il campo. Poi ci sono tanti elementi intermedi e diciamo che questo genere non è molto semplice per l'identificazione. Andando avanti ci possono essere appunto esempi dal genere Serapias che si possono molto bene distinguere per il colore, per la forma del loro epichilo che è questa parte qua, per l'eventuale pelosità o assenza di questa pelosità oppure diciamo pelosità più o meno accentuata che qui potremmo vedere. Le più diffuse sul nostro territorio possiamo dire che sono la Serapias pomeraccia e la Serapias lingua. Nella zona del nord Italia potremmo anche vedere la Serapias neglecta che è di aspetto molto più robusto, diciamo più compatto e ha un colore molto più rosato anche se c'è una certa variabilità infatti abbiamo anche delle neglecta di colore più giallino e inoltre anche per la stagione di fioritura potremmo distinguerla. Infatti la neglecta è una delle più precoci come fioritura mentre le altre arrivano a fioritura in un momento successivo. Poi abbiamo ad esempio tante specie dal genere Anacampis è più difficile distinguerle partendo dalla foglia ma come potete vedere invece a livello dell'inferescenza presentano caratteristiche ben distinguibili. Esempi più famosi sono ad esempio l'Anacampis coriofora che si distingue in due sottospecie di cui una è molto profumata che è la sottospecie Fragrance mentre un'altra tra l'altro diffusa in principalmente sud Italia e l'altra sottospecie che è la sottospecie coriofora è Puzza di Cimice quindi c'è questa particolarità. Poi abbiamo il caso dell'orchidea farfalla che è l'Anacampis papillionacea e l'Anacampis piramidalis che possiamo osservare a partire da maggio-giugno e una delle prime che possiamo vedere nella nostra primavera che è proprio l'Anacampis morio che si riconosce tipicamente anche se ha un colore molto variabile che va dal dal bianco al rosato al violetto si riconosce tipicamente anche per queste striature che ha sul suo caschetto tepalico poi ad esempio abbiamo queste belle orchidee dal genere Notinea che presentano un'infiorescenza molto più compatta e la forma del labello ricorda di nuovo quella di un omino e possiamo osservarle già a partire diciamo da anche da fine aprile cominciano a esserci le prime e una di quelle che esce più tardi invece è la Neotinio osculata che ad esempio in zone di alta montagna possiamo anche osservare fino a fine luglio e altre orchidee che hanno ad esempio la forma del labello che mima la forma di un omino sono quelle appartenenti al genere orchis anche se non ci sono solo di questo tipo e una particolarità di alcuni elementi appartenenti a questo genere è ad esempio il profumo cioè il caso ad esempio dell'orchis purpurea che io non so se a qualcuno di voi è mai capitato di odorare ma questa è molto è molto buona perché ricorda in qualche modo anche il cioccolato un'altra che profuma è l'orchis antropofora anche se è un profumo un pochettino più floreale indefinito mentre devo ammettere che l'orchissimia forse a causa dell'allergia che ho in alta montagna non sono mai riuscita ad apprezzare in pieno e poi ci sono esempi dal genere dactiloriza che di nuovo potrebbero mimare in qualche modo la forma di un omino con diciamo una morfologia più o meno accentuata con le braccine un esempio molto riconoscibile ad esempio quello della dactiloriza viridis che gli inglesi chiamano frog orchid ovvero orchidea ranocchia che è tipica di habitat montani ma in Liguria possiamo anche osservarla a quote un pochettino più basse anche a partire da 500 metri poi c'è il caso particolare che è quello della dactiloriza sambucina che possiamo osservare in una forma curiosa perché queste orchidee tipicamente possono assumere un colore o viola o giallo e appartengono tutte e due alla specie dactiloriza sambucina poi ci sono ad esempio quello più famoso che tutti voi sicuramente conoscerete perché è una delle più diffuse la barlia roberziana o mantoglossum roberziano visto che è stata recentemente inclusa in questo genere è una delle orchidee che caccia fuori prima la testa diciamo perché è una delle prime che spunta ad inverno ha un buon perfumo io non so se vi è mai capitato di odorarla che si sente anche a svariati metri di distanza e arriva ad avere un'infiorescenza anche piuttosto densa avendo anche una sessantina di fiori raggiunge anche un metro di altezza a volte infatti è anche chiamata orchidea gigante altre due orchidee che appartengono al genere imantoglossum ma sono più rare rispetto alla barlia sono l'imantoglossum adriaticum e l'imantoglossum incinum che hanno una morfologia del labello abbastanza simile però se osservate meglio in effetti ci sono dei caratteri che ci consentono di distinguerle ad esempio la densità dei fiori sull'infiorescenza il colore dei fiori e anche se in queste foto in realtà non si vede alla fine di questo nastro del labello una caratteristica che ci consente di distinguere tra imantoglossum adriaticum e imantoglossum ircinum è proprio la separazione più o meno netta dei piedini ad esempio ecco qua si vede abbastanza bene nell'imantoglossum ircinum è appena accennata mentre nell'imantoglossum adriaticum la divisione è più netta e come periodo di fioritura queste due specie sono molto simili incominciano a fiorire a partire da fine maggio e vanno avanti a giugno e luglio come possiamo distinguere le orchidee del genere platantera in questo caso possiamo osservare le strutture del polline ad esempio nel caso della platantera bifolia abbiamo queste strutture del polline disposte in modo parallelo e inoltre potete notare che la forma del fiore è leggermente diversa da quello della sua specie diciamo molto simile che è la platantera coloranta e anche il colore del fiore è molto più biancastro nella platantera colorante invece abbiamo una disposizione dei pollini molto più divergente e un colore più verdastro dei fiori inoltre possiamo dire che possiamo distinguerla anche come periodo di fioritura in quanto la platantera bifolia possiamo osservarla già a partire da maggio mentre la platantera coloranta esce fuori un pochettino più tardi le orchidee del genere pipactis sono tipicamente osservabili in ambienti boschivi e sono molto riconoscibili proprio per la disposizione dei fiori sullo stelo come potete vedere si dispongono tipicamente solo da una parte e questo in effetti si può osservare anche quando queste orchidee sono in fase di frutto diciamo che nei primi passi a semplificare ulteriormente le cose bisogna considerare che all'interno della stessa specie c'è una certa variabilità del colore come vi dicevo anche prima vedete ad esempio questo è il caso della cantis piramidalis questo è il caso della variabilità del colore dell'amorio e poi ci sono anche delle forme senza colore forme apocromatiche come ad esempio questo è il caso dell'orchis mascula che molto spesso io l'ho osservata spesso in alta montagna fa dei popolamenti anche abbastanza densi con piante violacee e poi a un certo punto si ritrova una pianta bianca molto spesso quando ci si approccia col mondo delle orchidee capita di confondersi con altre specie che non sono orchidee gli esempi più tipici che ci sottopongono sono questi che ad esempio è il colchico forse per la forma e le nervature delle foglie e anche il colchico autunnale che ha una ha una lamina anche molto più più larga e molto spesso viene considerata un'orchidea da chi si approccia con questo mondo per la prima volta però ad esempio un carattere che ci può aiutare a dire si tratta di un colchico è intanto considerare la stagione e la presenza di questa capsula con setti all'interno della rosetta altre specie che adesso fioriscono e che molto spesso ci sottopongono chiedendosi se si tratta di un'orchidea sono ad esempio la Iacintoides italica adesso non so se riesco a ingrandire la Missadino comunque potrete accorgervi molto facilmente che il fiore ha una simmetria molto diversa rispetto a quello delle orchidee e altri casi sono ad esempio quello del Muxcari neglectum che come vedete ha le foglie molto diverse da quelle delle orchidee come portamento poi molto spesso ci sottopongono delle lamiace oppure molto spesso ci mandano delle foto della Salvia pratensis e consideriamo anche quindi la forma delle foglie e non so se qua si riesce a intravedere questa è una dicotiledone quindi ha delle reticolature sulle foglie un altro esempio invece è l'Eritronium denscanis che in effetti cresce in questo periodo in ambiente boschivo e molto spesso viene confuso con un'orchidea però come potete vedere la rosetta è molto diversa e anche la simmetria del fiore già vi può fare immaginare che non si tratti di un'orchidea e poi abbiamo casi in effetti di orchidee che si confondono con altre orchidee anche a un occhio un pochettino più esperto purtroppo capita e un esempio tipico che ci sottopongono è quello dell'Anacanthus piramidalis che molto spesso viene confusa con la gimnadenia ma questo perché succede? perché ad esempio l'Anacanthus piramidalis come strategia riproduttiva ha proprio deciso di mimare la forma di una di una specie che offre nettare questa strategia l'Anacanthus piramidalis la segue per non investire risorse nella produzione del nettare ma essere tuttavia visitata in qualche modo dagli insetti impollinatori come possiamo distinguerle veramente in modo semplice odoriamole l'Anacanthus piramidalis ha un vago odore floreale mentre la gimnadenia conopsea già ha un odore molto più definito non parliamo ad esempio del paragone dell'Anacanthus piramidalis con la gimnadenia odoratissima che qua non vi ho messo che però già potremmo iniziare a pensare che si tratta di specie diverse anche perché la gimnadenia odoratissima arriva a fioritura in un momento molto più successivo rispetto all'Anacanthus piramidalis e poi c'è il caso che succede spesso in cui l'Orchis mascula viene confusa con l'Anacanthus morio forse proprio per il colore del fiore o comunque come dicevo prima ricordiamoci che l'Anacanthus morio ha queste striature molto particolari a livello del casco tepalico che è un elemento che sicuramente ci può aiutare nella identificazione e molto spesso ci ritroviamo a dover riconoscere almeno il genere durante la fase di sfruttificazione potete vedere che anche in questa fase in realtà hanno un portamento molto diverso da genere a genere ad esempio le specie appartenenti al genere offris hanno queste capsule molto allungate e molto tendenti verso l'alto che si distinguono bene dagli altri casi che qua potete vedere ad esempio questo è il caso dell'Anacanthus piramidalis che dispone le sue capsule in modo molto più orizzontale per non parlare poi degli altri casi che qua sotto vi riporto comunque c'è da dire che in effetti questo è un passo già più successivo e non è sempre semplice arrivare al genere e soprattutto alla specie quindi ricapitoliamo come possiamo iniziare a riconoscere le orchidee consideriamo l'ambiente che stiamo andando a visitare e la stagione in cui ci muoviamo consideriamo il portamento delle piante e il loro aspetto se sono in una fase di emissione solo delle foglie oppure se già presentano il fiore consideriamo l'aspetto generale com'è l'infiorescenza se è più o meno densa come sono i loro fiori e la loro simmetria odoriamole perché in effetti coinvolgere più sensi male non fa e facciamo sempre fotografie perché sono utili non solo per confrontarle con più calma a casa con le nostre guide in un secondo momento ma anche perché possono essere utilizzate le foto per fare delle segnalazioni oppure anche ricevere consigli per l'identificazione infatti qua vi andrei a consigliare l'utilizzo di queste piattaforme che sono PlantNet e iNaturalist in particolare iNaturalist appare in questo modo e ci tengo a sottolineare che già due anni fa avevamo creato la pagina dedicata a Life for Kids in cui raccogliamo tutte le osservazioni d'Italia praticamente è molto semplice iscriversi e l'app è molto di facile utilizzo sul nostro telefono inoltre consente proprio la registrazione di dati e inoltre la community ci aiuta fornendo dei consigli sull'identificazione e quindi ricapitolando di nuovo diciamo che per approcciarsi in un primo momento è molto utile avere dei libri di riferimento io personalmente consiglierei per chi fa i primi passi di procurarsi dei libri fotografici dedicati alla flora spontanea del proprio territorio così per iniziare ad avere confidenza con le specie botaniche della propria zona sicuramente se uno sospetta che nella propria zona ci sono delle orchidee se si procura la flora sicuramente le orchidee vengono inserite perché sono tra i fiori più spettacolari che sicuramente vengono inserite nelle guide poi andando avanti appassionandosi sempre di più io potrei consigliare l'acquisto di questo libro curato dal Giros che è molto accurato ha delle monografie molto belle e poi ci si può anche procurare delle guide dedicate alle orchidee della propria regione inoltre siccome sto per finire vi consiglio anche una lettura più leggera per le storie della buonanotte che è questo libro appena pubblicato dal nostro collega amico Jacopo Calevo che racchiude tanti miti e leggende sugli orchidee e tra l'altro contiene anche delle illustrazioni molto belle fatte da Alessandro Infuso quindi io vi ringrazio scusate se sono andata fuori dai tempi ho finito grazie non è un problema andare fuori dai tempi ho visto anche per esperienza nel webinar non è un problema perché tutti sono molto attenti credo e hanno voglia di ascoltare ci sono delle domande c'è scritto se l'amorio ha le foglie maculate ho l'audio attivo allora l'amorio no no l'orchis mascula che molto spesso viene confusa con l'amorio in Italia e in Europa in generale non ha le foglie maculate ma invece in Inghilterra e in altre zone ha le foglie maculate questa è una particolarità che è collegata alla distribuzione di diffusione storica di questa specie poi vediamo se c'è ma comunque fanno i complimenti se guardi la chat sì si vedo in effetti ho appena visto la guida dedicata al Piemonte verissimo fatta molto bene tra l'altro uno degli autori è Lorenzo Dotti vi riferite a quel libro vero? bellissimo sì tra l'altro l'idea era un po' di chiedere adesso non l'abbiamo ancora contattato però l'idea era di chiedere in uno di questi giovedì si ha voglia l'idea di proporne di presentare il libro e quindi partendo un po' da o meglio partendo dal libro giornato raccontarci un po' di orchidee del Piemonte quindi questa è un po' un po' l'idea e quindi è un po' anche questo lo scopo questa è stata la prima quindi penso che sia andata bene visto che tutti scrivono è andata bene scusate non conosco il background ma vedo che siete tutti molto attenti quindi penso che siete già uno step successivo però in qualche modo bisognava iniziare no ma infatti no no ma è proprio una stata una panoramica anche per far vedere quanto è difficile alla fine veramente eh ci sono tanti aspetti da considerare io direi che un po' di tempo bisogna passarci poi viene quasi naturale anzi uno fa una passeggiata nel bosco e a un certo punto sente che c'è una idea da qualche parte da qualche parte qua mi sembrava l'ambiente buono beh proprio poi bisogna essere abituati ma e poi ecco anche questo aspetto dell'odore è interessante ecco perché appunto anche riconoscere dall'odore questo è affascinante no veramente bisogna usare tutti i sensi no per poterle poterle riconoscere quindi ecco questa cosa non l'ho detta molto spesso anche toccare le foglie aiuta a distinguere se è un orchideo o non è un orchidea la rigidità della foglia consideriamo ovviamente per cominciare è molto è molto utile osservare la pianta in fase di fioritura così vediamo com'è fatta in generale e nel frattempo che è in fioritura ci accorgiamo anche dei caratteri delle foglie poi l'anno successivo magari potremmo già partire a riconoscere almeno il genere anche solo considerando le foglie va bene comunque stanno ringraziando quindi direi che è andata bene e la prossima il prossimo giovedì l'idea è di parlare delle orchidee del Piemonte però parco del Po dall'alessandrino al Vercellese quindi molto molto specifico con con Paola e poi ci sarà Maria Angela che ci parlerà dei funghi quindi altro altro mondo affascinante veramente poco conosciuto perché tutti vedono l'archidee ma i funghi che stanno sotto non si conoscono e quindi l'idea era proprio di andare a approfondire un aspetto che magari appunto è poco conosciuto e quindi poi chi si è già registrato settimana prossima rimanderò ancora il link quindi ringrazio Miriam della disponibilità e prima o poi riusciremo a fare anche qualcosa in campo e a vederti in azione che aspettiamo l'anno prossimo ormai a questo punto esatto e ci vediamo per chi ci sarà settimana prossima allora quindi saluti a tutti e ci vediamo settimana prossima ciao Miriam ciao grazie grazie Miriam grazie anche da parte mia grazie a voi grazie a voi